mi mancherai shrek tornerò in un baleno c'è una cosa che devo dirti non possiamo aspettare il mio ritorno no io e quello cos'è stato e puoi ripetere shrek io cosa ah non lo capisci shrek diventerai padre santa maria con shrek lontano in missione azzurro architettò un losco piano di vendetta contro shrek contro fiona e contro una certa cameriera che inspiegabilmente non lo trovava così tanto affascinante determinato a prendere la corona azzurro chiamò a sé le canaglie del regno e promise di esaudire i loro più grandi desideri zucchero filato per tutti oppure il lieto fine che così tanto ci meritiamo azzurro incaricò quindi la regina cattiva capitano uncino stromboli e i loro seguaci di impossessarsi del regno di molti molto 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 lontano adoro lo zucchero filato questa rovina segnano i confini del worcestershire siamo in un territorio inesplorato e pericoloso amico vedo deduco che la folla inferocita sia qui per darci delle indicazioni insegnerò loro un po del rispetto in un modo o nell'altro fermi contadini questo non è un comune orco inchinatevi dinanzi a ser shrek si inchineranno davanti ad artù più tardi andiamo prendo congedo capo ci incontreremo all'accademia di artù hai qualcosa di meglio da fare vero? una mia cara amica vive da quelle parti una mia cara è un'altra Wow, per poco non ce la facevo. Ti sei perso il simpatico comitato di benvenuto. Ehi, Shrek, ho una domanda. Sì, ciocchino. Credi che a questo Artù piacciono i ciocchini? Non vedo perché dovrebbe. È quello che pensavo. Ehi, aspetta un momento. Molto divertente, Shrek. Ehi, hai bisogno di aiuto, vero? È qui, è qui! Oh, via! Oh, via! Ragazzi, era così arrabbiata con me. È solo perché ho aiutato Cenerentola con i compiti di alchimia. Ehi, Shrek, lo senti questo odore? Piano, ciocchino! Cosa credi che viva qui? Da innamorata a infuriata. È una tale principessina. Ma perché devono sempre arrabbiarsi per qualsiasi cosa? È lo stesso odore di ratto che c'era l'anno scorso nella tua palude. Wow! Non sono ratti, ciocchino. Sono atleti. Ora fai silenzio. Un asino parlante. Quei cervelloni al club della magia non impareranno mai. Ragazzi, colpite duro! Corpo a corpo! Sei più brutto del tuo sommarello. Non provarci con me. Classe 1462! Ehi, eccolo lì! Ehi, eccolo lì! Ehi, eccolo lì! Bene, bene! Abbiamo con noi Sir Shrek! E tu sei... Un'amica di un amico! Vola, amore mio! Di alla regina cattiva che abbiamo trovato l'orco! Di alla regina cattiva che abbiamo trovato un amico! Oh, non era poi così difficile.